Erba alta e strade sporche. Questa mattina con le telecamere di TV City abbiamo documentato le condizioni pietose in cui versano le vie di Torre del Greco. Una problematica che si aggiunge alla situazione critica dei rifiuti e della raccolta porta a porta che fino a questo momento, nella città corallina, non ha ancora portato i frutti sperati. Siamo stati in via Aldomoro e in altre zone della città. Una folta quantità di erbacce ricoprono la superficie del marciapiede. Per questo motivo l'amministrazione si è attivata con un piano, partito il 25 maggio, destinato al verde pubblico. L'azione del comune sarà finalizzata sia alla verifica statica degli alberi di alto fusto pericolanti esistenti sul territorio cittadino, sia al diserbo stradale dei marciapiedi in varie zone della città, tra le quali via Giovanni XXIII, via Nazionale, via Marconi e via Diaz. Un intervento che sarà fondamentale per il rilancio del verde cittadino a Torre del Greco. Grazie per la visione!